LT serramenti in alluminio di Luca Turolla e Ornella Artero a Volpiano in via Torino 80. Siamo insieme a Fabio Rosso, capitano dell'Achivasso. Intanto complimenti per tutto quello che avete fatto nella prima parte di campionato, insomma, gran bei numeri. Siamo a ridosso della ripresa del campionato, come vi siete preparati? Intensamente. Quello poco mi assicuro perché con il ministro a mister e il nostro preparatore ci fanno allenare sempre, tutti i giorni, siamo fermati forse due giorni, siamo fermati Natale e giusto il giorno di Capodanno. Siamo preparati bene, facendo anche amichevoli di prestigio con squadre di altra categoria, eccellenza, promozione. Sono andato anche relativamente bene, a tratti ovviamente, perché anche con i carichi settimanali che avevamo di sicuro non riuscivamo a tenere tutti i 90 minuti. Oggi ni, possiamo dire ni? Un po' sì, un po' no. No, adesso vediamo se settimana qua ricominciamo con gli allenamenti normali, con i tre allenamenti a settimana, vediamo domenica, speriamo di arrivare in ottima forma. A prendere i tre punti, via. Eh sì, contro l'Ardol San Francesco, contro cui avete vinto, praticamente sempre vinto, e quindi avete vinto l'andata. Vi aspettate un avversario comunque più agguerrito, perlomeno? Cioè, quello è sicuro. Adesso, ovviamente, vedendoci da primi in classifica, con 12 punti dalla seconda e tutto, ovviamente ogni squadra vorrebbe far punti con la prima. Quindi arriva la prima in classifica, speriamo di far bene, tutti giocano col coltello fra i denti. Però, ovviamente, noi se siamo lì è perché abbiamo forse qualcosa in più, penso. E quindi cercheremo di mettere in campo quello che non abbiamo in più, e ovviamente la palla è rotonda. Quindi, il risultato è sempre un dubbio durante la partita. Sperando che tutti abbiano la stessa mentalità, entrare in campo tutti, giocando da primi in classifica, ma pensando di essere ultimi e dovendoci salvare, penso che il risultato arrivi. Grazie. Grazie a tutti.